Restano stabili i ricoveri in ospedale. Nelle ultime 24 ore, infatti, non c'è stato nessun nuovo ingresso. Sono sempre 3 i ricoverati in terapia intensiva e 68 i ricoverati in malattie infettive. Aumenta sempre il numero dei positivi di Caltanissette rispetto a quelli di Gela. 1.362 in quarantena domiciliare, 13 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva. Mentre a Gela sono 1.198 i positivi in quarantena domiciliare e 18 in malattie infettive. 5.285 sono i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. I numeri delle ultime 24 ore, 371 sono i pazienti positivi tutti in isolamento domiciliare. 93 sono di Caltanissetta, 92 sono di Gela, gli altri sono suddivisi nei vari paesi della provincia. Salta subito all'occhio il numero dei positivi riscontrati a San Catalto, infatti, sono 44.